Buon salve a tutti, questo non è un nuovo podcast ma in realtà è la mia videocandidatura per il direttivo nuovamente per il prossimo triennio. Avevo fatto un video nel 2021 quindi mi sono detto lo rifaccio anche questa volta che è di riassunto di quello che ho fatto, di quello che voglio fare. Stavolta ho proprio pettinato rispetto al video precedente, quindi spero di essere più pettinato e non voglio farvi perdere tempo ma andiamo subito al dunque. Allora, cosa mi proponevo io tre anni fa? Di coinvolgere più comunità con il Mergit. Nel 2021 mi sono occupato dell'organizzazione della versione online, nel 23 mi sono occupato delle due giornate, no, della giornata community hackathon e anche organizzavo gli incontri mensili con le video riunioni finché le facevamo tutti i mesi. Poi il piano era di fare nuovi servizi per i soci, mi sono occupato di mettere su un'istanza con WordPress che permettesse di registrare i video della nostra istanza BBB che poi nel mentre tutte e due sono state uccise, non ci sono più online però ecco è stato fatto. Ho seguito il forum, ovvero l'istanza di discorso che abbiamo online che nel mentre ha permesso alla community Gimp Italia di entrare sul nostro forum e loro di dismettere con i costi che comportava il server e quant'altro. Ad oggi loro, credo in poco più di un anno, hanno raggiunto gli 81 thread di supporto dedicati a Gimp, proprio alla comunità italiana. Forse non tutti voi lo sapevate ma c'è e non è stata una mia idea ma sono loro che si fecero avanti proprio per chiedercelo. Quindi insieme a Valerio abbiamo seguito tutta questa pratica. Allo stesso tempo abbiamo l'assistenza Linux che oggi permette di ricevere l'assistenza proprio scrivendo un'email che è l'assistenza di chiocciola Linux. In automatico viene creato un thread su forum e loro ricevono le risposte in automatico. Ad oggi abbiamo 155 thread lì sopra, giusto per dirvi un po' di numeri che i numeri fanno sempre bene per dimostrare che insomma qualcosa è stato fatto. E bisogna tanto crescere da questo punto di vista sull'utilizzo di questo forum. Abbiamo poi il sito WordPress che è stato messo su da Roberto, io ho seguito il tema e un po' mi occupo degli aggiornamenti proprio dell'istanza. Poi io qui nel resoconto parlo della tria dei sistemisti associativi che siamo praticamente io, Valerio e Rosario che diciamo li seguiamo molto spesso. Ringrazio infatti Rosario per video.linux.it e Valerio perché fa un sacco di script e documenta praticamente tutto. E ho seguito il revamp di Simple Summary che ci ha permesso di non avere più una versione con le modifiche hardcoded per quello che serviva a noi. Quindi sono stati fatti un po' di lavoro ma dobbiamo andare molto oltre. L'altra idea era quella di fare un repository ad oggi che si è dettagliata come un'istanza nextcloud per l'associazione. Ho creato questa istanza, l'ho configurata da repository, ce l'abbiamo da un terra di spazio. È pensata per essere pubblico ovvero si possono scaricare tutti i file ma solo i soci potrebbero caricarli. Il problema è che l'integrazione con Summary nextcloud è buggata. Io ho tentato segnalando patch, bug e quant'altro ma in un anno non mi si sono filati proprio per niente perché non è proprio sviluppato molto questa integrazione e quindi si arriva al punto tale che me ne parlerò dopo per mettere in funzione questa istanza che noi già paghiamo. Poi uno dei piani era di aggiornare le guide per i nuovi look. Infatti ho riscritto parte del manuale che non è più un pdf da scaricare ma è una pagina web. Insieme al supporto di dei soci come Andrea e Fabio, credo andando a memoria, l'abbiamo revisionata dopo che l'ho aggiunto tutta una serie di cose in più. Poi nuovi spunti collaborativi con altri gruppi al di fuori di Ilse proprio per abilire le nostre braccia pensando al fatto dopo il covid quindi non sono potuti fare granché. Anche se ho partecipato a Zona Varpa l'anno scorso che era un evento alternativo nomade per tutto il paese all'incontro di Roma che era dedicato al tema del retro gaming ma c'è tantissimo open source e un sacco proprio di gaming ma era proprio per entrare in un mondo completamente diverso. Ho partecipato anche a un evento vicino al Parlamento organizzato alla campagna a dati bene comuni che serviva a sensibilizzare i politici riguardo il concetto di open data e dei benefici che portano e sempre l'anno scorso ho partecipato a un incontro alla Sapienza dedicato ai studenti del corso di giornalismo per parlare sia di open source che di privacy e delle generazioni artificiali. Mentre dal 2022 partecipo con vari webinar al progetto Programma al Futuro che poi ho aperto, non è che ho aperto, ho dato supporto a questa organizzazione per reclutare altri relatori di altri argomenti su temi open source quindi Valerio e altri per Wikipedia, mi viene a dire Gabriele Italo per la comunità LibreOffice ma ce ne sono stati molti altri perché il Programma al Futuro sono tutti webinar che sono fatti per i docenti delle scuole italiane quindi dagli asili fino alle superiori che gli permettono di raccogliere punti formativi che servono a loro per poter scalare nelle graduatorie. Quindi abbiamo fatto tutti questi webinar che sono pubblici, sono online su varie tematiche di tipo open source, ho fatto uno su Gimp, ne ho fatto uno sul Terminale, ne ho fatto uno sulle macchine virtuali e onestamente ne ho fatti veramente tanti in questi anni. Questi sono punti che avevo promosso nel mio piano e che sono stati fatti poi ci sono delle cose in più che ho fatto, da quello che mi ricordo ovviamente perché in tre anni se ne sfanno tante innanzitutto ne approfitto per chiedere di nuovo scusa per il casino che ho creato nel tentativo di chiudere il gruppo Telegram Lug Italia perché il mio piano era quello di razionalizzare i vari canali di comunicazione dell'associazione e quindi ho appreso, parlando dopo con l'amministratore, di chiuderlo per migrare al nostro gruppo Telegram, quello associativo, e c'è stato un po' di risentimento per la mia azione che è stata molto rapida, senza discutere e quant'altro, quindi ne approfitto di nuovo per chiedere scusa per questa mia azione un po' troppo diretta e brutale senza considerare l'idea che c'era dietro questo gruppo. Poi l'idea della produzione delle locandine è nata proprio dopo il Magit dell'anno scorso, ne abbiamo già fatta una e in arrivo la seconda, che sono delle locandine pensate per essere di pubblico dominio, quindi chiunque le può modificare e farci quello che vi pare a livello di social, riscriverle, modificarle e stamparle, tutto quello che volete, su tematiche proprio attinenti all'associazione. Quindi adesso in arrivo la seconda e servono principalmente per attaccare quelle altre facilità e persone che noi non riusciamo a raggiungere a causa del nostro giro che è molto ristretto, il giro teso di persone. Poi nel 2021 insieme a Valeria abbiamo fatto il sondaggio dei soci, che io voglio rifare, poi abbiamo migrato IELTS e Linux IT a un nuovo generatore di siti che dovrebbe permetterci tutta una serie di cose, fece una campagna di regolamento di sviluppatori per i nostri progetti che non è andata granché bene, e poi ho riscritto la maggior parte delle guide per contribuire ai progetti fossi in meno di 5 minuti che sono presenti sul sito di Linux.it ma vanno sicuramente promosse meglio. Queste erano le cose che sono riuscito a raggruppare degli scorsi anni fatti, scludendo per tutti i millemila commit fatti nei vari progetti meno importanti, diciamo, questi commit meno importanti. Invece i miei propositi per il prossimo triennio allora, evolvere il Mergit realizzando un ritiro di un paio di giorni, io viene a dire, in un campeggio uno stile proprio da braciolata, relax, pensato per fare proprio il networking e chiacchierare perché dopo tutto siamo sempre noi, quindi se ci facciamo i talk tra di noi che ci conosciamo delle varie copie italiane è quanto e niente, invece noi dobbiamo chiacchiare tra di noi per far nascere nuove idee e stimolare la possibilità di fare cose tutti quanti insieme e quindi unire tutto questo senza dover la pressione di dover fare talk, un programma, ma in realtà chiacchiere, relax, è da vedere ovviamente quando e dove, però l'idea sarebbe di farlo in un posto facilmente raggiabile per tutta l'Italia, quindi questa è una delle mie idee che secondo me potrebbe essere proprio utile a unire le forze tra le varie realtà che non siano solo le associazioni ma anche vari Lug che abbiamo nel paese. Con Lug io intendo associazioni e tutto il resto. Poi i servizi per i soci ancora, trasformare e gestionare i soci in un gestionale anche per i login, quindi un SSO che ci permetterà di integrare tutti i servizi tra cui il forum e anche questo Nextcloud, sfruttando Out, quindi liberandoci di Simple Sam, che semplificherà anche rimuovere altra roba da mantenere perché non abbiamo le mani, siamo in tre, dobbiamo fare troppe cose. Quindi, sì, effettivamente c'è una scarsità di partecipazione dei soci e non, perché non bisogna essere partecipato per contribuire, a quello che fa l'associazione in termini tecnici. Quindi questi servizi per i soci, avere questo gestionale ma anche questo Nextcloud che è aperto a tutti per poter vedere i file che vengono caricati da vari look, che ne so, slide, video, eccetera, e che però è solo per i soci per caricare. Il resto è tutto pubblico scaricabile e viene creato quindi un archivio a livello nazionale di materiale che può essere riciclato e diffuso senza limitazioni, anche perché non tutti i look e associazioni hanno un sito aggiornato, hanno un sito funzionante, hanno tutti ognuno un canale diverso di comunicazione, alcuni sono morenti, in questo modo ne avremo un gruppo, diciamo un centro di raccolta che è indipendente da tutte queste situazioni. Poi ovviamente i social, perché noi dobbiamo raggiungere queste nuove persone al di fuori del nostro giro, quindi l'idea è anche di valutare un'associazione, un contratto con un freelance che ci aiuti a migliorare tutta la comunicazione, tra cui anche revisionare tutti i testi che abbiamo nei nostri siti internet e fare più pubblicità, promozione sui nostri social che abbiamo oggi, sono Twitter, Facebook e Mastodon, quindi sono tutte da evolvere. Poi, come dicevo poco fa, di rifare un sondaggio, anche se alcuni dati li possiamo estrapolare dal gestionale, anche se il sondaggio era aperto anche ai non soci. Giusto per avere altre idee. Poi, sfruttando un'idea di Marcello, proprio fresca fresca del Fosdem, di partecipare come associazione l'anno prossimo al Fosdem, quindi di applicare per la richiesta di uno stand, perché quest'anno c'era un'associazione francese dedicata all'open source, ma negli anni passaggi ce ne sono state diverse, quindi perché non provare ad applicare anche noi ad avere uno stand? Altrimenti, se non ci viene dato, ripiegheremo una serata insieme e ho fatto dei sebi dal gioco con l'ascia, Wolf, per mangiare tutti quanti insieme e stare proprio insieme. E poi, l'ultimo punto che è forte, è il nuovo statuto. Il nuovo statuto, diciamo, di per sé è pronto, però per essere approvato è richiesta la presenza del 50% della situazione più uno, perché l'attuale statuto richiede questo, quindi l'idea di Roberto è di farlo dopo, ovvero dopo questa elezione del nuovo direttivo. Il nuovo direttivo si dovrà occupare e organizzare questa assemblea dedicata a solo questo, che avrà una durata di una settimana dove la gente potrà dare il suo voto, tutto questo in remoto, così ne possiamo arrivare a questa percentuale di soci partecipanti e effettivamente fare questo statuto, perché dobbiamo proprio coinvolgere tutti i soci per poter avere almeno questa quota, perché non siamo pochi. Quindi, arrivando alla fine, cosa mi auguro per il prossimo direttivo? Ebbene, nel direttivo è importante avere persone con cui ci si può dialogare e discutere le idee che abbiamo. Non soltanto questa brutta abitudine, venendo da Mozilla e dal resto delle community open source, dove ogni cosa va decisa tutti quanti insieme, si fa insieme dopo essere stata revisionata, inizia invece a se hai un'idea prendi, pigli e falla, senza discuterne con gli altri. Questo porta dei problemi, come ho fatto ad esempio poco fa quello del gruppo Telegram, Lug Italia, ma anche può provocare dei problemi anche in altre cose, con un sistema così. Mentre il direttivo potrebbe essere un organo decisionale, cioè deve decidere. Nel caso che ci sono più persone, bisogna poterlo fare, quindi non servono delle persone che stanno e le scaldano la sedia, ma persone con cui ci si può parlare e raffrontare, ma anche chi fa l'idea poi la porta avanti. Non è che la lancia e poi vediamo se qualcun altro nel direttivo o nella situazione lo vuole fare, no. Bisogna prenderle, farle e discuterle insieme. Poi, che in questo caso nel direttivo tre siano delle persone che poi si occupano anche della parte tecnica e quindi queste persone, oltre a fare la parte decisionale, devono anche fare la parte tecnica, porta via molto tempo per fare tutto quello che serve proprio l'associazione. Quindi noi dovremmo avere una partecipazione maggiore dei soci e non alla situazione tecnica, ovvero tutte le stanze server, i software che abbiamo sopra, le cose nuove da implementare e così via, perché altrimenti noi ce la facciamo. Se il direttivo dovrebbe decidere, deve poterlo fare perché ha tempo per poterlo fare. Se invece deve sistemare bug, c'è un server che si è incartato a mezzanotte, Garo ci dà dei problemi o quell'altro ce ne dà altri e così via, noi dobbiamo poter avere le forze per poter fare tutto questo, altrimenti noi non possiamo competere con i nostri cugini francesi, tedesi che siano, anche per avere una presenza più forte in tutto il paese e anche a livello nazionale molte iniziative. Quindi è molto importante avere una maggiore partecipazione anche nel direttivo, però di persone che vogliono fare. Ora, tutto questo restudone che ho fatto sono cose che effettivamente sono state fatte, però non richiedevano di essere parte del direttivo. Questa è la cosa che voglio sottolineare, bastava soltanto avere voglia di poterle fare, non soltanto dirle di farle. Quindi chiunque può partecipare e farle, il direttivo serve come organo decisionale. Quindi io invito chiunque che sta guardando questo video per Eats di votarmi, ma anche di valutare di candidarsi perché servono persone nuove con idee che vogliono fare per svecchiare e dare una botta di vita perché noi dobbiamo reclutare, anche se suona brutto come termine, persone nuove che vengono da altri mondi e specialmente giovani che ci servono per il futuro dell'open source, delle libertà digitali e dei dati aperti nel nostro paese. Detto questo io vi ringrazio per avermi seguito, ho sentito bladerare a velocità quantum vatte la pesca e ci vediamo in assemblea per le lezioni. Ciao!